Dopo la fuga dei due tunisini ospiti del GECO, la prefettura di Sernia ha chiesto ed ottenuto rinforze al Ministero dell'Interno, in aggiunta ai servizi svolti dalle locali Forze dell'Ordine. Una ventina di agenti sono giunti nel capologo di provincia dal reparto mobile di Napoli e stazionano in pianta stabile in Viale dei Pentri. Un presidio interforze poi sorveglia l'ingresso della statale per garantire l'isolamento assoluto dell'edificio. Intanto proseguono le ricerche dei due fuggitivi. L'unica certezza è che sono riusciti a eludere la sorveglianza in due circostanze diverse. La donna ha detto di star male e per questo è stata accompagnata al pronto soccorso del Veneziale. Verso mezzanotte però è riuscita ad allontanarsi dal reparto di emergenza facendo perdere le sue tracce. Un uomo invece è riuscito a dileguarsi dall'interno della struttura che ospita i migranti, forse calandosi dalla grondaia. Ha evitato il presidio delle forze dell'ordine ed è sparito nel nulla. Posti di controllo sono in corso nell'Interland ed in città, in special modo al terminal e dalla stazione, ma dei due fuggitivi almeno per il momento non vettraccia. Possibile che siano già in viaggio verso il nord Europa, spesso destinazione finale dei migranti sbarcati a Lampedusa. Grazie a tutti.